Con il componente Immagine puoi aggiungere nuove immagini, foto e illustrazioni all'interno del tuo sito web. Per farlo clicca a sinistra sulla barra degli elementi, seleziona Media e trascina il componente Immagine all'interno della tua area di lavoro. Puoi facilmente aggiungere una nuova immagine all'interno del tuo sito web o modificarla. Ti basta cliccare sul componente con il tasto sinistro del mouse. Clicca Modifica immagine e seleziona l'icona Cerca immagini. In questo modo puoi aggiungere una nuova immagine o sostituirla. Hai a disposizione queste opzioni. Puoi caricare un'immagine personale direttamente dal tuo pc o un'immagine già presente nel tuo editor. Puoi cercare e caricare un'immagine che il nostro partner mette a tua disposizione. Ti basta inserire una parola chiave sulla barra di ricerca per filtrare le immagini da aggiungere al tuo sito. Se desideri ridimensionare l'immagine mantenendo le proporzioni, evitando che venga tagliata accidentalmente, tieni premuto il tasto Shift mentre esegui il ridimensionamento. Se intendi mostrare l'immagine a tutto schermo, clicca sul componente Immagini con il tasto destro del mouse, vai su Dimensioni e clicca su Larghezza 100% per mostrare la foto a pieno schermo. Grazie a tutti.